I giovani sono il futuro. Sabato 6 novembre la Banca di Credito Cooperativo del Metauro ha premiato gli studenti soci e figli di soci che hanno raggiunto importanti traguardi in ambito scolastico. Ad aprire la serata è intervenuto Bruno Fiorelli, presidente della Banca di Credito Cooperativo del Metauro, il quale, nel ricordare i valori su cui si fonda l'Istituto di Credito, ha sottolineato l'importanza dei giovani. Oggi come oggi i ragazzi hanno bisogno di fiducia. Troppo spesso si sentono soli in una società in cui i valori tradizionali, dalla famiglia alle istituzioni, hanno perso un po' di appeal. Dare fiducia a chi ha davanti un futuro è per noi estremamente importante. Durante la serata sono state consegnate 12 borse di studio ai ragazzi diplomati e 37 ai giovani laureati. La cerimonia è stata impreziosita dalle note del Rossini Street Quartet.